Finito l'argine San Marco, proseguire una serie di lavori idraulici, grandi e piccoli, che culminarono con le diversioni fluviali della Serenissima. Man mano che il territorio si stabilizzava, anche dal punto di vista idraulico, sempre maggiori erano le famiglie di patrizi veneziani che investivano nell'aria, diventando proprietari terrieri e costruendo le loro dimore sempre più belle, diventando vere e proprie ville venete. Intorno al 1500, molte erano le ville venete veneziane nell'aria, tra cui lungo il Piave, ricordiamo Villa Ronchi. Verso la fine dell'Ottocento, venne ripristinata la navigabilità del Piave, con la costruzione delle porte vinciane, attualmente collocate tra il comune di San Donà e Musilia di Piave. Due comuni ben distinti tra loro, ma che hanno condiviso molti degli episodi caratteristici di quest'area. Il loro rapporto viene sancito ogni anno con una manifestazione, che però ci racconterà la presidente della Proloco di San Donà, Renata Mattiuzzo. Ogni anno, fra i due comuni, il 7 agosto, si fa una manifestazione dove viene celebrato il solenne patto d'amistà. Questa manifestazione viene celebrata perché tra il comune di San Donà e il comune di Musile si sono scambiati i nomi. Quindi ogni anno, in questa giornata, il comune di San Donà si reca al comune di Musile portando come pegno due capponi, pingui, in segno di amicizia, pagamento del pegno. Grazie. 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 Grazie.